Sono oltre 466 i milioni di euro spesi nel 2016 nella provincia di Piacenza nel gioco d'azzardo tra slot machine, gratta e vinci, super enalotto, giochi virtuali, lotto e bingo. I dati, arrivati dall'Agenzia dei Monopoli, che fotografano nel dettaglio la mole di gioco nelle singole province dell'Emilia-Romagna, ha indotto gli esponenti del Movimento 5 Stelle Gianluca Sassi e Maria Edera Spadoni, rispettivamente consigliere regionale e portavoce alla Camera, a sollecitare i comuni della provincia ad approvare e rendere subito operative le delibere no-slot VLT per limitare orari e fissare distanze dei luoghi sensibili, così come sancito dalla legge regionale. Impressionanti i dati emersi dall'analisi dei Monopoli, dai quali emerge che mediamente per ogni famiglia piacentina la spesa annuale per il gioco d'azzardo supera i 3.500 euro, cioè quasi 300 euro ogni mese. Soldi, si legge nel comunicato del Movimento, che oltre ad andare letteralmente in fumo rappresentano un danno economico e sociale all'economia reale, al piccolo commercio, ai servizi, ai ristoranti e ai negozi. Se poi proseguono, a queste perdite aggiungiamo la spesa sanitaria per curare la ludopatia, i costi sociali diventano enormi e molto preoccupanti. Entrando nel dettaglio delle tipologie di giocate, si scopre che in provincia di Piacenza, a farla da padrone, nell'universo dell'azzardo sono le slot machine e le videolotteri, che rappresentano il 66% delle giocate totali, con quasi 310 milioni di euro spesi nel 2016. Rilevante è anche il gioco online, che ha superato i 43 milioni di euro. Sulla stessa linea il gratta vinci, 38 milioni, e poi l'otto, 34 milioni, mentre più staccate restano le scommesse sportive, 20 milioni, il bingo, 6 e il superanalotto, 5 milioni. Chiediamo anche, si legge ancora nel comunicato, che in Parlamento si approvi al più presto la legge bipartisan per vietare la pubblicità, ferma ormai da due anni, nonostante il Senato, ad ottobre 2015, avesse firmato l'urgenza.